Introduzione al lavoro con le perline Per utilizzare le perline avrete bisogno di un ago adatto, che dovrà essere molto lungo e sottile, con una cruna molto piccola. Facciamo passare il filo nella cruna piegandolo in due, un normale filo per cucire, creando un'asola. Adesso dovrete far passare il filato attraverso l'asola. Tiratelo un po', quindi potete far passare le perline sul lago. Spingetele giù sul filo e poi sul filato. Man mano che metterete le perline sul lago, le dovrete spingere giù. Quando tutte le perline saranno sul filo, potrete rimuovere l'ago. Ho lavorato già un paio di ferri e adesso sono pronta per il mio primo ferro con le perline. Le perline sono sul filato e sono rimaste lì per tutto il tempo. Lavorerò le mie prime maglie. Se vi occorre, spingete man mano le perline lungo il filato. Per questo motivo occorre che le perline siano della misura giusta. Se il buco è troppo stretto, rovineranno il filato. Dunque, lavorate le prime due maglie. La prima tecnica consiste nel passare la maglia. Quindi spingete la perlina in su verso il ferro. Portate il filo sul davanti del lavoro. Passate la maglia successiva a rovescio e portate il filo sul dietro del lavoro. Regolate la tensione e continuate con la perlina successiva. Potete vedere che la perlina poggia sulla maglia che avete passato. Questa maglia sarà una perlina circondata da due maglie a rovescio. Lavorate a rovescio la maglia seguente. Fate scorrere la perlina verso il ferro. Anche la maglia successiva sarà a rovescio. Lavorate una maglia a rovescio. E potete vedere che la perlina rimane ancorata tra i due rovesci. Adesso, con il filo sul davanti del lavoro, passate questa maglia a rovescio. Portate la perlina sul davanti e portate il filo sul dietro del lavoro. Regolate la tensione. Dopodiché, lavorate questa maglia dritto e ancorate la perlina. Queste sono le prime perline del nostro schema. Potete vedere che c'è una scaletta di perline, con il metodo del passaggio della maglia ai lati, che sono lavorate a ferri alternati. Se le avessimo lavorate su tutti i ferri, il lavoro sarebbe stato troppo pieno di perline. Qui potete vedere il motivo ai lati delle perline, che abbiamo inserito in mezzo due maglie a rovescio, ottenendo un effetto diverso. Grazie. 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 Grazie.